Sono Michelangelo Palermo, di professione docente e consulente ambientale, candidato nelle liste di potere al popolo nel collegio plurinominale di Gela, Grigento e Mazzana del Vallo, per la Camera dei Deputati. Mi avvicino alla politica per le mie competenze specifiche e per l'esperienza già maturata nel movimento politico Favara per i beni comuni. Perché vi invito a votare potere al popolo? Perché è l'unica lista, dico l'unica lista, che è stata scelta dal basso, da più di 300 assemblee tenutesi in tutta Italia. I nostri candidati sono stati scelti non per volontà imposta o per appartenenza a gruppi cosiddetti paracadutati, ma sono stati scelti per la loro competenza, per il loro impegno nel territorio, per la loro integrità morale. Il nostro programma, per merito al nostro programma, il potere al popolo affronta tutti i temi cari a noi cittadini. In particolare riguardo all'ambiente, perché noi siamo per la salvaguardia dei territori, per la salvaguardia del patrimonio storico architettonico. Siamo contro le grandi opere come il MOS, la TAV, la TAV per il progetto Poseidon. Voglio fare un appunto in particolare per la sanità. In merito alla sanità, noi siamo per dare gli essenziali sistemi di assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo per l'eliminazione dei ticket sulle prestazioni sanitarie, nonché sul drastico taglio dei tempi di attesa. Un altro punto del nostro programma è la previdenza, ovviamente. Noi siamo per l'abolizione della legge Fornero e per la pensione a 60 anni di età oppure a 35 anni di contribuzione. E inoltre siamo per una pensione a 15 anni di contribuzione minima, a fine di dare un aiuto e di non condannare alla miseria, che ha avuto una vita lavorativa discontinua. Invito pertanto a votare potere al popolo. Rendete utile il vostro voto. Votate le persone che hanno a cuore veramente i diritti dei cittadini. Assumiamoci la responsabilità del nostro futuro. Votate e fate votare potere al popolo, affinché sia il vostro voto sia il nostro impegno assumano il valore che effettivamente possiedono.